Battere il fallo laterale, Johnny sotto tribuna Tevere, lo scambia ancora con Amantino, ancora Zebinà Palla ancora per il capitano, e fallaccio! Ancora Montero, vattene a casa! Vattene a casa! Vattene a casa! Te ne devi andare proprio a casa, lascia proprio perdere! Fermo, fermo Amantino, fermo, va a casa, bello vai! A casa, espulso Montero, vai a casa! Vai a casa! Vai a casa Montero, vai a casa, ti avevano già graziato prima sul rigore Montero, vattene a casa! Un fallo netto, t'ha dato un calcione, ma una cosa, questa addirittura doveva essere da espulsione diretta Un calcione netto, un delinquente proprio! Un fallaccio da parte di Montero, il capitano Fischi per lui, cariche della polizia sui tifosi della Juventus 2-0 per la Roma, Montero espulso Espulsione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima, proprio in occasione del rigore a Cassano Intanto Capello dice qualcosa a Cristian, a Cristian Panucci Calcio di munizione in favore della Roma intanto Tocchi ancora fuori